Lea Lo Whisper A.S.N.N. Ciao ragazzi, eccomi di nuovo allora, come al mio solito c'era un articolo di AVO che vi volevo far vedere perché era carino e di questo è uno spazio la cosa carina è questa è tutta marmorizzata e qualche pensiero io l'ho fatto proprio su questi spazi qua trovo che siano veramente stupendi comunque vi volevo anche far vedere come dà una fruidrice io ascolto i video tramite questo ovviamente è un prodotto con questo qualunque voce paradisiaca questo è scherzante, è molto comodo perché non è indossibile, ovviamente bene, veniamo a noi indosserò scusate indosserò dovete perdonarmi ma è un po' che non facevo più video indosserò gli occhiali perché sennò non ci vedo niente allora, visto ho preso uno dei miei libri della mia collezione carte della rocina che adesso vi mostrerò praticamente è un libro è il miglior libro almeno su questo poi su questo mazzo di carte che si chiama i segreti dei tarocchi Reader Weissmith la vera storia del mazzo dei tarocchi popolare al mondo bellissimo questo libro che si chiama purtroppo non potrete vedere le pagine perché non ho la videocamera quindi dovrete sentire solamente raccontate quindi cercherò di fare un intepo quando inizieremo a leggere allora inizio con i segreti dei tarocchi di Reader Weissmith i segreti dei tarocchi di Reader Weissmith i segreti dei tarocchi di Reader Weissmith dall'avventurale del mazzo dei tarocchi più popolare al mondo al mondo e qui sono rappresentate le tre fiore il mago di imperatricio di diamanti qui ci sono tutti i ringraziamenti poi inizio tra tutte ora inizio tra l'altro e qui c'è il bit lateral è un arcano maggiore che la stella giusto? pronti? pure l'acqua per la realizzazione della macchina dimostriamo la tenda della propria piaccia della prima carta la carta della stella crei che ci sono più tardi insieme la trica sarà molto più divertente quanto la figura rappresentata non avrà un po' disegnata con il papel si fa un po' tra i due modello a chi pensa a questo fratello contempo il lago la differenza la propria descrizione della carta la carta è stata rossodiosa in modo in cui la scritta la lampare sempre è costituita dal fatto che mentre lui viene la cura piena è un risaliente la vita la due gamine provoca e la melattina e le due piccole carappe bambini perché il piaccia in modo in cui puoi un po' disegnata e un po' disegnata un po' disegnata ho metto una volta giù ho metto una volta giù ho metto un altro volta giù per tutta quella del libro di compagnia e tutte le carte metto un microfono con il più basso un esempio fondamentale ho metto un microfono con il cuore l'acqua allora la tua cara la prena tepina la testa di l'acqua rapida la fruttura e la natura e la natura per te puoi la contrata sobre i miei suoi anteriore i miei suoi la notura la notura la notura Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. non si è comata, non si è comata comunque spero che questa cultura vi abbia fatto veramente piacere con altri video che ho fatto, questo è il terzo video io vi auguro con tutto il cuore un po' due vita, effetti, nove ci vedremo nell'anno nuovo iniziate bene l'anno nuovo tanti, 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 bacione a tutti mi raccomando non vi fate volgere dalle pulcette ciao ragazzi, buon anno lea lo whisper a s n n n n